Bentornati su MyFootballGersey. Oggi vediamo la prima maglia del Canada usata durante i mondiali in Qatar in edizione FAN. La maglia rossa con un motivo tono su tono sulle maniche. Le rifiniture e i numeri sono bianchi così come il logo Nike posizionato sul petto. Il Canada torna in mondiali dopo 36 anni dall'ultima e unica apparizione del 1986. Sembra che questo abbia sorpreso tutti i soggetti coinvolti dalla federazione al fornitore di kit Nike. Mentre le altre squadre internazionali di AE, Nike, tra cui 12 che giocheranno ai mondiali, hanno svelato i loro nuovi kit, il Canada ha deciso di confermare le sue vecchie divise. Ciò significa che il Canada sarà l'unica squadra su 32 a non presentare nuove divise per la Coppa del Mondo. La maglia non mi dispiace, però nella mia classifica prende solo tre stelle. Mi piace questo colore corallo, non è proprio un rosso, mi piace questa lavorazione, questo tono su tono sulle maniche, ma non è una delle mie preferite. Qui in alto vedete il costo, su questo non aggiungo nulla se non che è veramente un prezzo incredibile, imbattibile. In descrizione trovate i riferimenti per ordinare la maglia, ma soprattutto trovate anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete utilizzare sul sito per comprare quello che vi pare. Ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità. Spero che possiate nel frattempo regalarci un like e iscrivervi al canale. Fatemi sapere nei commenti quale altre maglie vorrete vedere in futuro. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FAN.